Forse sì. Perché? Perché ho sentito quello che ha provato questa gente. Il significato di questo club è per la gente. Un club gigante che non ha una storia di trofei. Sto parlando in inglese. Credo che hai tagliato un teo. Perché? Ma ho versato una lacrima perché ho provato le emozioni di tutte le persone che amano questo club. Questo è un club enorme, gigantesco, che non ha una bacheca importante rispetto alla dimensione sociale enorme che ha. Questo non è un trofeo, è una finale, ma che significa moltissimo per loro. Perché vivo e lavoro in questa città da 11 mesi, ho sentito che cosa hanno provato e queste erano le mie emozioni. Quinta finale europea con quattro club diversi mai fatto da nessuno. Vediamo se riusciamo a vincere questa finale. Sarebbe ottimo. Posso sicuramente affermare che in ogni club che ho allenato ho raggiunto almeno una finale. Non posso dire di averla sempre giocata poi quella finale, ma posso comunque dire almeno di averla raggiunta con tutti i club che ho allenato. Grazie.